con questo video tutorial andiamo a vedere come presentare la domanda di procedura assunzionale per chiamata veloce la cosiddetta mini call veloce per le gps sostegno si entra con lo speed su istanze online e una volta che si va sulla pagina delle istanze troverete questo tipo di stanza presentazione della domanda procedura assunzionale per chiamata veloce gps sostegno andando a vai la compilazione si entra in una pagina dove viene presentata la domanda di chiamata veloce secondo il dm numero 111 del 2024 e si fa la conferma lettura anche per quanto riguarda l'informazione sui dati personali facendo conferma lettura passiamo dentro la domanda la domanda viene così di partita in varie sezioni quella dei dati personali quelle delle gradatorie di inclusione troverete appunto la gradatoria di inclusione che in questo caso è una gradatoria ad mm e poi andrete sulla parte 3 che è molto importante la regione di destinazione della domanda per esempio potete scegliere come selezionare una regione andando nella menu a tendina troverete solo quelle regioni in cui ci sono posti al momento sicuramente potrebbe questa selezione potrebbe aumentare nelle prossime ore qualora gli uffici scolastici regionali si rendessero conto di avere delle situazioni ancora di gradatorie esaurite di fatto per cui residuano posti per esempio si può scegliere la lombardia scegliendo la lombardia e facendo salva andremo a salvare la lombardia e potremo passare al successivo step cioè alla scelta delle preferenze in questo caso la scelta delle preferenze come potete vedere sono le scelte riferite alle province che sono la provincia di varese e dunque potete mettere la provincia di varese quella di sondrio vedete che l'ordine della preferenza viene indicata da questa situazione quella di pavia e poi ancora quella di mantova poi quella di monza brianza quella di lodi quella di lecco quella di cremona e scendendo via via sia a como ecco abbiamo la situazione anche di brescia di milano e di di eventualmente ci potrebbero essere anche dice non è possibile esprimere preferenze per milano e bergamo perché non sono disponibili posti per le gradatorie dell'aspirante allora si potrebbe poi fare una scelta di ordine differente per esempio portare brescia molto più su e dire ad esempio che la provincia di brescia sia tra le prime se non addirittura la prima o subito dopo la provincia di varese ecco messa qui a cosa avremmo avremmo varese brescia poi magari si può mettere come terza pavia e abbassare sondio dopo monza brianza e dunque mettere monza brianza come quarta manto va come quinta oppure anche lodi fare salire lodi e lecco lodi qui lecco così e chiudere con sondio oppure far salire anche como prima ancora di lecco far salire como e dunque andare più su mandare più su come fare per esempio salire anche cremona che è una sede più comoda metterla sull'ordine di preferenza non cambia minimamente la questione poi si fa si va sul successivo step che lo steppe di riepilogo non dimenticate di tastare il tasto inoltre perché il tasto inoltre che cosa va a determinare che la domanda con le dichiarazioni di conferma per la presa visione del dei dati personali del trattamento dei dati personali e la conferma di aver partecipato alla procedura secondo il regolamento del decreto ministeriale 111 2004 si fa si fa inoltre e quindi la domanda è regolarmente inoltrata speriamo che questa questo diciamo tutorial sia utile a tutti i nostri telespettatori arrivederci grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti